si assomiglia sempre di più perché la qualità dell'amore si misura difficilmente commento finché si resta nella media evoluzione non si può misurare la qualità dell'amore che si riesce a dare perché ognuno ama per come sa amare solo quando l'individuo è più evoluto il suo amore simile a quello dell'altro a quel punto anche se le persone apparentemente sono diverse la qualità dell'amore si assomiglia sempre di più